Il setting della psicoterapia infantile, secondo Melanie Klein, è composto da una stanza da gioco che deve essere arredata in maniera sobria, scarna, essenziale. Ogni bambino deve possedere un cassetto o una scatola personale che contenga i suoi giochi. Tali giochi devono avere dimensioni ridotte per poter essere maneggiati agevolmente e devono essere anche oggetti semplici in modo che il bambino possa usarli in molte situazioni differenti secondo la trama, secondo l'argomento che emerge dal suo gioco.